Sì, la situazione è abbastanza chiara, nel senso che intanto non mi aspettavo che Poncerall lasciasse la Yamaha e diciamo che ci abbiamo pensato, era una cosa anche bella ma non ce la facciamo quindi per i prossimi due anni non faremo il team della MotoGP con la Yamaha, anche perché molto probabilmente correrò io, quindi potrebbe essere una cosa per il futuro quando smetto ma non nel 19-20 Sì, Mark, in my opinion, and I'm sure a lot of others, Mark made that bike win last year, you know, and you know that I don't think it actually deserved to, especially early on and he out, he just made the bike win the championship, you know, and sure there was mistakes on other from other people, but can you imagine how good he's going to be when he's got a really good bike and he's as focused as he is right now, he's going to be, I think, really hard, there you have to stop